Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato su product e l'interior design. Questa settimana abbiamo un ospite speciale perché è con noi Maria Laura Rossiello Erwine dello studio Erwine, quindi Maria Laura in primis grazie mille di aver accettato questo mio invito. Grazie a te, grazie a te. Maria Laura come abbiamo chiacchierato un po' dietro le quinte e la cosa che ti ringrazio è che mi ho ospitato nel tuo studio che è nuovo, è un posto bellissimo e vivere queste cose di persona secondo me danno molto più valore a quello che racconteremo perché secondo me quello che si fa di persona ha pure un'emotività diversa rispetto a vedersi dietro uno schermo. A volte è necessario, però oggi siamo riusciti a farlo dal vivo. Ti vorrei, introdurrei io, però è bello quando un professionista si racconta. Quindi ci racconti un po' chi sei, anche della tua formazione, da dove hai iniziato, perché poi una cosa ci accomuna siamo entrambi campani, siamo tutti e due, abbiamo studiato alla Federico II per cose differenti ma di base condividiamo l'Ateneo. Io sono cresciuta a Torre del Greco, che è un paese a 13 chilometri da Napoli, proprio sotto il Vesuvio, perciò ho sempre sentito la potenza sotto ai miei piedi, però soffrivo un po' della questione che stavo in un paese, non potevo vivere la città a pieno. Perciò appena ho potuto, più che altro mio padre mi ha spinto a fare architettura, ho fatto il liceo linguistico, pensate a Torre del Greco, perciò ho le lingue, e poi mio padre dice no, devi fare architettura, devi seguire quello che ho fatto io. Perciò insomma un po' forzata mi avvio a Napoli all'architettura, comunque Federico II, perciò un'università storica, e fin dalla prima lezione, mi ricordo con Raffone, il professor Raffone, che mi spiegò come si costruiva un muro in mattoni, ed o come la Malta non deve assolutamente, deve essere sempre sconnessa rispetto ai vari mattoni. Da lì mi sono innamorata della materia, ho detto vabbè, questo è il mio posto. Architettura a Napoli all'epoca era molto complicata e complessa, aveva migliaia di scritti all'anno, perciò era complicato poi dal linguistico a fare analisi 2, 1, 2, scienze delle costruzioni. Diciamo che è stato un miracolo, forse una delle mie più grandi sfide, quella, poi se ne sono avute tante altre nella mia vita, però quella è stata la più grande. Da lì ho scoperto un mondo, anche perché ho studiato i classici, perciò storia, ho fatto almeno 15 esami di storia, perciò con De Sieta, De Fusco, perché comunque l'Università di Napoli ha, dal punto di vista storico, c'erano 12 esami tipo storia dell'architettura 1, 2, storia dell'urbanistica 1, 2, storia dell'arte 1, 2, 3, storia del design, insomma, storia a volontà. Perciò lì mi sono fatta delle basi storiche notevoli. E poi c'è tutta la parte di tecnologia, architettura, eccetera. Dalisi, Riccardo Dalisi, il mio professore, mi prese un po' sotto la sua alla protettiva e mi sfidò, facevo composizione architettonica, mi sfidò chiedendomi se, io ero lì dovevo fare un progetto architettonico, mi guardò e mi disse, sai fare innamorare due alberi? E io rimasi un attimino, mi disse, certo professore che so fare innamorare due alberi. E lì la seconda sfida della mia vita, fare innamorare due alberi, allora c'è un pino e un salice, c'è una poesia che il pino amava il salice, due personalità totalmente diverse, che il salice si vuole avvicinare al pino con questi rami lunghissimi, invece il pino che tende verso l'alto inizia a piegarsi, essi praticamente poi finiscono in questo abbraccio meraviglioso e da lì nasce un'architettura che è una chiesa, con tanto di struttura di metallo, tanto di calcoli eccetera, perciò come dire, da una poesia a creare un'architettura, una storia e poi tutto, poi la realizzazione, il luogo, il genio sloshi dove lo costruisce, tutto il resto compagno. Con lui poi mi sono laureata e poi ho seguito un po' lui nel, come dire, più nel, in una ricerca interiore, facevamo queste, questi, ci riunivamo una volta alla settimana e facevamo proprio ricerca interiore e spesso andavamo anche poi in, facciamo anche il weekend con altri ovviamente studenti e lui come professore che facevamo queste grandi incontri tra di noi in cui si, c'era molta filosofia, perciò si andava molto al profondo della progettazione, poi andavamo, eravamo liberi di disegnare anche in questi parchi insomma, ci immergevamo nella natura, disegnavamo, poi ci rincontrevamo e ci raccontavamo le nostre esperienze qua si avevamo incontrate ed erano delle cose di una profondità, delle volte, io mi ricordo ancora, io raccontai avanti a tutti anche cose molto profonde mio, nel senso della solitudine, anche come progettista e lui si alzò, si mise a piangere, si emozionò, mi abbracciò e mi ha detto io mi sento come te. Da lì è veramente, io ho avuto come dire, caspito, no, il professore si sente come me, no? E poi a un certo punto vedo su, io volevo andare via, comunque volevo, come dire, scappare, ma non scappare, all'epoca era scappare, poi dopo è stato ovviamente un ritornare, per poi alla fine, quando hai delle radici così forti, perché comunque Napoli, l'architettura, Pompei, Ercolano, perché comunque sono cresciuta lì, no? E sono talmente forti che poi ti richiamano, anche il Vesuvio ti richiama a sé, non c'è sta niente da fare, però avevo bisogno di uscire da quel mondo, anche perché poetica appalla, no? Progestazione appalla, storia appalla, insomma dovevo mettere, come dire, concretamente, no? Dovevo iniziare a prendere. Sì, fare un passaggio ulteriore. Eh sì, allora trovo questo Master in Design Strategico sul Sole 24 ore, mi ritrovo a Milano, chiesi da lì se andai professore, ma secondo lei, lui disse, piangendo sempre, mi disse no, no, devi assolutamente andare, vai, per noi sarà, cioè per me sarà una... Delaniante. Sì, però comunque devi andare. E da lì io mi sono catapultata, no? A Milano, in questo Master internazionale, molto, molto interessante, è durato un anno e mezzo, stavamo sempre lì, praticamente 15 ore su 24 e ho capito di design strategico dopo 10 anni, perché al momento veramente non capivo niente ed era, come dire, essendo progettista, cos'è la comunicazione, cos'è il marketing, cos'è un brand, no? Perciò all'interno di un processo aziendale come ti posizioni come progettista e come funziona all'interno delle aziende. Da lì sono andata in Benetton, Sport System, poi mi dissero che ero troppo per loro, perciò mi sono ritornata a Milano, ho iniziato la mia grande esperienza in Danese, Milano, che comunque è collegata ad Artemide, e da lì è stata un'apertura nel design totale, lì è stata proprio la scelta, la svolta della mia vita. Come passaggio, perché poi alla fine è quello che hai raccontato, nel senso che l'hai raccontato su me è benissimo, perché si percepiva quello che avete vissuto in quegli anni di formazione e come la formazione poi milanese abbia contribuito a dare anche una forma di concretezza sotto tanti punti di vista, altri aspetti dei quali uno non si può mai discostare, cioè un progettista di prodotto, di architettura, deve tenere comunque tutti gli aspetti insieme, deve partire sì da un concetto culturale e filosofico che a volte manca ed è fondamentale perché avere un'idea che si basi non sulla prima cosa che ti viene in mente, ma da un vissuto, da un letto, da quello che hai studiato, da un libro, da un film che hai visto, cioè tutte delle cose che ti influenzano poi deve essere portato nella pratica e dare, che è una cosa che oggi la diamo quasi per scontata, però probabilmente quando tu hai fatto il master non era così, non era una cosa all'ordine del giorno, far sì che quello che propondi poi per un'azienda abbia pure una continuità, una finalità che poi è anche banalmente commerciale, che però è a sostegno di quel progetto. Sì, ora è imprescindibile, cioè comunque è quando la cultura di progetto incontra la cultura d'impresa fondamentalmente. Io come progettista incontro l'imprenditore di una volta, speriamo per il futuro, e da lì è lì che è stata poi la grandezza del design italiano, cioè le grandi innovazioni sono proprio nate da questo incontro. Il fatto che il progettista comunque studia il processo all'interno dell'azienda e sa come comunicare, come far fare la fotografia in quel determinato modo, e tutta la parte poi distributiva anche, tutta la parte commerciale, ti aiuta a andare dritto al punto di quello che eventualmente è il brief che ti dà l'azienda o quello che comunque tu proponi all'azienda. Sì, è vedere il quadro completo e non parziale fondamentalmente. Assolutamente. Infatti una cosa interessante sul tuo sito, sul vostro sito, comunque siete uno studio, è che si parla di metodo, cioè c'è un metodo al quale voi non vi ispirate, avete consolidato, che poi riportate in ogni attività che fate e questo metodo segue tutto il percorso. Infatti ti volevo chiedere in primis come oggi avere una direzione artistica e come sposi il tuo metodo con direzioni artistiche di aziende differenti. Ah sì, allora diciamo che lo studio attualmente fa design di prodotto che ha sempre fatto, direzioni artistiche e anche progetti di architettura interior fondamentalmente e c'è sempre una connessione tra di loro. Sicuramente quello che a me interessa è il processo dei progetti più che il prodotto poi finale definitivo. Il metodo è qualcosa di universale, il metodo che noi applichiamo come dire un metodo di grande analisi iniziale, grande curiosità, ma questo è imprescindibile per ogni progettista, di curiosare al di là di quello che è il progetto in quel momento stai facendo e poi l'ispirazione viene sempre da altri mondi. Però un'analisi approfondita viene fatta, cioè anche disegnare una serie da tutto comunque devi fare un'analisi di quello che è già stato fatto, devi avere una coscienza notevole. E essere curiosi, sicuramente essere precisi, essere molto ordinati, infatti noi abbiamo un archivio che penso ci invidiano tutti gli studi di architettura e di design, perché comunque ogni anno sviluppiamo tantissimi progetti. Ogni progetto, specialmente sul prodotto, dura 3-4 anni e spesso ti dimentica, almeno la mia memoria, insomma, un po' vacilla. E per gestire tutti questi progetti noi abbiamo questi libri, questi libri che all'inizio sono neri perché sono dei raccoglitori che raccogliamo in maniera temporale. Ogni giorno mettiamo gli schizzi, l'idea, l'email che ci arriva, insomma, tutto quanto organizzato. E poi, a chiusura del progetto, dura 3-4 anni, tiriamo fuori tutti i fogli, li uniamo e facciamo dei libri bianchi. Perciò tu puoi andare nel nostro archivio e vedere, che ne so, una sedia di Harper 2013, finito il 2013, iniziato nel 2018, vedi tutta la storia di quegli anni, come fosse un libro, e da lì ti accorgi di tante cose, tipo dal primo schizzo come c'è stata l'evoluzione, perché poi nel processo non sei tu l'unico. Ovviamente c'è il team dello studio, ma c'è l'industria, c'è chi sviluppa il progetto, insomma, intervengono tantissimi autori, devo dire. Cioè, siamo tutti quanti protagonisti. Sì, come immagino, quando tu fai direzione artistica, intervieni anche per dare la linea anche ad altri designer che devono entrare, quindi a quel punto c'è un ulteriore attore che interviene e quindi i processi hanno questa forma di sviluppo. Io non lo sapevo, ma è una cosa bellissima, perché tu riesci non solo a vedere il prodotto, ma vedi il processo. E oggi che la comunicazione va tanto alla radice di quelle che sono le cose, anche solo raccontare così le cose è un'arma potentissima, perché le persone da sempre, però ancora oggi ancora di più, vogliono portarsi a casa una storia e quando tu hai tutte le pagine di quella storia è molto più bello da sottoporre. Non so se poi condividi mai questi passaggi così. L'archivio è più un archivio storico, diciamo. Poi un giorno avrà sicuramente una funzione a chi è interessato. Per esempio di un progetto fatto per Muji, perciò azienda multinazionale giapponese che ormai ritroviamo in tutti i paesi del mondo, una scopetta, una paletta scopetta che è entrato nel sistema della pulizia, ha richiesto 3-4 anni di sviluppo. E ho questo libro bianco meraviglioso che dopo ti faccio vedere. Sì, ma sono curioso. E se tu vedi i miei primi schizzi sono gli stessi che poi sono andati in produzione. Però dal primo schizzo alla produzione loro mi hanno chiesto di farne altri per poi ritornare al primo. Questo è un esempio, non è sempre così. Però se non avessi, come dire, l'organizzazione, che è la base del metodo Erwin, è fondamentale. E questo, devo dire, l'ho imparato da mio marito James, che ha fondato lo studio negli anni 90. È molto più inglese questo metodo, diciamo, di organizzazione che non napoletano. Ma pure io sono un napoletana tipico e sono molto ordinato. Quindi di base ci portiamo via una brutta nomea. Perché poi un po' è vero. Però sappiamo quando si può non essere puntuale. Esatto. Io dico sempre, se parto un treno e comincio un film del cinema non puoi fare il ritardo. Ma se siamo amici e siamo al bar, se arrivi mezz'ora dopo a me non mi cambia niente. Sì, 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 poi dopo... Diciamo, l'organizzazione ha più o meno la stessa cosa. Essendo uno studio comunque che, ripeto, gestisce tanti progetti, è importante organizzarlo in questo modo. E quando io, per esempio, anche voglio vedere un progetto di un'azienda che abbiamo approcciato dieci anni fa e poi non è andato a termine, poi dopo io vado a riprendere quel libro e vedi quello che io ho fatto. Vedi la storia, non ti perdi i passaggi che poi è normale perdersi. Assolutamente. E poi un'altra cosa che dicevi, che secondo me è una cosa che capita spesso, che molto spesso tu fai... È brutto a dire, però a volte la prima cosa che fai è quella giusta. Come uno dice, la prima idea è spesso quella giusta. Sì, sì, sì. Però hai bisogno delle altre, per convincerti che quella che avevi fatto era veramente quella giusta. E poi c'è solo a me, ma anche ad altri. Ad altri, sì. Questo lo facciamo anche su noi stessi, però a maggior ragione ad altri, perché sembra sennò voler velocizzare troppo un processo. In realtà questa cosa ritorna in tante scelte fondamentali. Ma devo dire che il libro... Poi anche... Poi il cartaceo, tra queste, non si perde. No. Tu quando hai penne, pennette, eccetera, eccetera, lì invece hai una, diciamo, un condensato. Non è non volessi aprire la tecnologia, però ha ancora un valore. Soprattutto quando poi ci sono delle cose scritte a mano, degli schizzi fatti a mano. Quindi comunque si avrebbero due entità differenti, fondamentalmente. E mentre Maria Laura, una cosa che ti volevo chiedere, perché hai accennato allo studio, hai accennato al tuo lavoro. Comunque il tuo è un lavoro, comunque, anche se noi siamo napoletani, abbastanza minimalista, dove la materia è il fulcro. E quindi non ci sono fronzoli, non c'è un lavoro additivo, ma c'è un lavoro sottrattivo, dove praticamente l'oggetto è sempre protagonista, ma addirittura sull'oggetto stesso, che sia un prodotto o che sia una superficie, e ancora protagonista la materia che lo sviluppa. Tu mi accennavi fuori onda che addirittura le tue collaborazioni con le aziende molto spesso si differenziano per la materia che queste aziende sfruttano e lavorano. Quindi mi farebbe piacere che tu mi raccontassi un po'. A te non piace parlare di stile, però il minimal di base è una forma di approccio stilistico. però quello e poi le aziende con cui collabori, cosa ti affascina di loro e come hai selezionato questo sodalizio? Perché poi alla fine penso sia sempre una cosa che venga un punto di contro a metà tra il professionista e l'azienda, non è univoco come approccio. No, infatti. Allora, per me, ripeto sempre da un po' di tempo a questa parte, il protagonista è sempre la materia. Perciò mi piace più parlare delle materie che non delle aziende con cui collaboro. Di solito c'è sempre legato a una materia poi un'azienda di riferimento. Diciamo che ambisco a coprire tutte le materie. Perciò dall'argilla alla plastica industriale, plastica riciclata, il sughero, il gress porcellanato, il cemento, il legno, la gomma. Per ognuno di questi io ho un cliente di riferimento con cui io sperimento, perché la cosa più importante per me è la sperimentazione. Ripeto, per me il progetto poi finale sicuramente è quello a cui tendiamo, però il processo è la cosa che mi interessa di più, perché avvengono tantissime cose. Fondamentalmente è anche la sfida che tu dai nell'elaborare quella materia rispetto anche ai processi produttivi all'interno dell'azienda. Perciò è una continua sfidare e anche fare molta terapia, come dicevamo in fuori onda, fare terapia col cliente, terapia proprio una grande... Io mi definisco un buonissimo psicologo, sono bravissima a sentire tutti i problemi dell'altro anche per indirizzarlo, specialmente nella direzione artistica. Perché in direzione artistica per me il protagonista è il brand, non è il progettista. Il progettista fa il suo lavoro, non deve essere lui il protagonista. Il brand è comunque, io lo definisco sempre un qualcosa di umano, una personalità che deve essere definita. Avendo poi degli obiettivi attraverso delle analisi approfondite di riferimento, avendo un obiettivo di essere di solito dei leader su quella materia o quel processo produttivo eccetera, io tendo poi a costruire il brand in questo senso. Così come è successo per l'argilla, le superfici naturali che ho fatto con Matteo Brioni, quando è venuto dieci anni fa in studio, era come dire una start-up, aveva avuto questa intuizione di fare le superfici utilizzando l'argilla, che è uno dei materiali di architettura più antichi al mondo, e di essere riuscito dopo dieci anni comunque a creare un'azienda che oggi come oggi è leader internazionale di superfici a cui si riferiscono tutti gli architetti più importanti, da Chipperfield a John Posen, tutti si riferiscono, quasi tutti almeno secondo i loro progetti, di creare questi superfici che diciamo spostano, diciamo anche l'incontro proprio con Brioni ha formato anche come dire la mia visione sulla materia che mi porto con altri clienti, come dire quella minimalismo di cui parlavi prima, io l'ho spostato e un po' come dire l'ho fatto crescere ed evolvere in un minimalismo materico, cioè perciò il minimalismo un po' degli anni 90 in cui ci abituiamo, io mi ricordo quando studiavo il minimalismo ad architettura, questi volumi bianchi, cioè che tu entravi in queste praticamente ospedali puliti perfetti in cui anche l'oggetto sul tavolo doveva essere super studiato, che ti dà anche un'idea come dire, cioè che ti senti un po' come dire non partecipi dello spazio, un po' lo subisci, per me il minimalismo materico invece è dare calore attraverso la superficie tridimensionale, perciò l'argilla comunque crea con il riverbero della luce questa tridimensionalità. Sì, spostare il punto d'attenzione, cioè è più caldo come sensazione, hai ragione il minimalismo negli anni 90 ti dava quella sensazione di non essere quasi accettato dall'architettura che ti ospitava, perché tutto quel bianco, poi magari noi, io parlo da napoletano, per noi era l'opposto di quello che siamo come persona e anche solo delle case che vivevamo fondamentalmente, quindi magari per alcuni paesi forse erano un po' più vicini, se penso solo al mondo scandinavo magari non era questo shock. No, per me è stato uno shock totale, io passo da una casa in cui il design era il mobile del 700 napoletano, attenzione, in cui c'erano le sedie Tonet che si spondavano sempre, allora si andava da quello che facevano le paie, e allora si riparavano, che poi ho la fortuna di lavorare con Tonet oggi, che questo è il grande, ho raggiunto questa grande cosa, la famiglia essere cresciuta su una Tonet che si spondavano e poi lavorarci con... No, poi sono aziende veramente, cioè Tonet è una di quelle aziende che veramente pensi, e la storia del design perché l'ha inventato lui a tutti gli effetti, il design industriale come lo conosciamo oggi nasce da quando lui disse come devo portare 12 sedie in una scatola fondamentalmente, No, però sono completamente d'accordo, cioè è strano perché noi abbiamo già parlato un po' fuori onda, quindi sono d'accordo, tu già lo sai che sono d'accordo su tutto questo processo, perché abbiamo avuto la fortuna di avere un po' di tempo per parlarne, prima non ci siamo seduti e abbiamo registrato, e ti volevo chiedere, chiaramente il processo è in divenire, l'ho detto all'inizio della puntata, siamo in uno spazio nuovo, tutto quello che si fa uno ha sempre, ha costruito nel tempo, però è una costruzione che va avanti, quindi ti volevo chiedere, nell'anno prossimo, tanto stiamo registrando a dicembre, quindi oramai siamo a ridosso, quali erano i tuoi progetti, ti dico banalmente per il salone perché lo abbiamo talmente a portata di mano, per chi fa design sa che gennaio il salone è già arrivato fondamentalmente come idea, quali sono le cose che stai programmando e come, se vedi anche già un'evoluzione, diciamo, del tuo lavoro, anche del sistema design d'arredo che viviamo, se vedi una valutazione di questo post-covid che è già durato due o tre anni, quindi già può dare delle indicazioni. Allora, diciamo che il post-covid io l'ho vissuto in maniera, diciamo, come tutti noi, traumatica, che però in quei mesi, come direi, ho veramente lavorato tantissimo, per esempio ho ricamato tantissimo e poi quei ricami sono diventati dei tappeti, diciamo che non perdo mai tempo, tutti mi dicono che sono vulcanica, sono via del Vesuvio, perciò non mi fermo mai. In ogni caso, post-covid ricevo la telefonata di Konstantin Grecic, che è diventato, diventò direttore artistico di Mattiazzi, che è una delle aziende per me, come dire, era un sogno lavorare per Mattiazzi, una serie per Mattiazzi, stupendo. Konstantin mi dà un brief e mi sfida, anche lì di nuovo sfida, e io subito accetto perché io adoro le sfide, più difficili sono, più mi metto un po' pazza all'inizio, però è quell'intuizione, quella cosa a pancia che senti, e dico ok, andiamo. E lui mi ha sfidato nel disegnare la prima sedia imbottita per Mattiazzi, che è 100% legno, e mi diede come brief un trono, i troni del 300 come potrebbe essere oggi un trono, appunto nel 2022, era l'anno 23, che aveva presentato ora. E da lì, diciamo, è partito tutto un discorso, proprio direttamente con Konstantin, abbiamo lavorato benissimo, insomma, su quello che è la semplificazione, il ridurre e come comunque ricorreva sempre la parola radicale, cioè nel essere radicali. E questa cosa, come dire, mi ha introdotto poi a cosa farò poi per l'anno prossimo, che amo chiamarlo, come dire, un sussurro radicale, perché per me il design comunque va, oggi come oggi, va sussurrato, non va urlato, anche perché ogni progetto che noi facciamo deve convivere in uno spazio, deve convivere con altri oggetti, comunque deve stare bene insieme, perciò non urlare ma sussurrato, ma come? In maniera comunque dirompente, perciò per me il radicale, come dire, mettere un punto e fare qualcosa di innovativo, nuovo, così come è stata la sedia per Mattiazzi, presentata l'anno scorso, che, come dire, allargheremo per l'anno prossimo la famiglia con altre tipologie. Poi non so mai quello che posso dire, Sì, siamo in quella fase dove ci dobbiamo autobippare fondamentalmente. Però comunque questo processo di creare una sedia che si può scomporre, che lavora più su una logica di come io, un po' come Tonet che accennavi prima, come mando la sedia dall'altra parte del mondo in maniera sostenibile, no? Allora, come le impilo, come lo stoccaggio, come viene fatto, i cuscini, come vengono realizzati. Perciò, quello che diciamo, questa sedia per me rappresenta la mia visione su come scomporre le materie. Avere rispetto di materia, per ogni singola materia, non, per esempio, non utilizzare il poluretano. Perciò questa sedia si scompone in, parte in metallo, parte di piume reciclate, niente poluretano, la parte del tessuto e poi qualche vita di metallo. Questa è la sedia che tu puoi scomporre e tu, utente, la scomponi. Perciò tu levi, lo sfoderi, lo lavi, metti i cuscini, tipo come quando fai, quando devi rigenerare il guanciale, proprio il cuscino dove tu... Lo batti come... Sì, sì, che fai... Perciò si chiama paf-paf, perché tu la mattina paf-paf, perciò la sedia si chiama paf-paf, perché ridai la forma, no? Del cuscino dove poi dopo vai a dormire. E la stessa cosa, il cuscino è fatto di piume, almeno una volta era fatto di piume, e lo mettevi, ecco che ci viene in aiuto come siamo cresciuti noi. Al sodio mi ricordo che questi cuscini si mettevano al sole, no? Che dovevano rigenerare, o era lana, o comunque era la piuma, no? Perciò prodotti che durano nel tempo, perciò questo sussurro radicale deve essere timeless, deve durare nel tempo, deve raccontare, sussurrare qualcosa che comunque è sostenibile, che sia contemporaneo, anche se ricerca, le radici sono della tradizione, in questo caso in un trono del Trecento, in altri progetti è qualcos'altro. Perciò questa sedia, ritornavo perché secondo me è un riferimento importante, è un sussurro radicale e che si può evolvere, perciò da sedia diventa poltroncina, può diventare qualcos'altro. Sì, può diventare un letto, cioè comunque ha delle declinazioni. Perché come dicevi te, quando tu hai un'idea iniziale che però dopo evolve, rimane l'idea, quindi non sei legata al fatto che debba rimanere una sedia, cioè da un trono può nascere un letto, non è detto che da un trono deve nascere per forza una sedia, come ragionamento. E secondo me l'altra cosa interessante è che tu ci stai raccontando, ma sono sicuro che i ragazzi, i giovani designer che stanno ascoltando lo devono prendere diciamo come vero monito e che il design, quando tu dici va sussurrato è perché il prodotto, il progetto che si fa deve avere una forza. Comunicare se stessi è fondamentale, non è sbagliato, però non deve diventare, non deve sovrastare il lavoro che uno fa, perché altrimenti dopo c'è poca sostanza e magari può nascere quello che succede tante volte, che un prodotto va bene perché per qualche incastro funziona bene e poi dopo si vive lo sconforto di non avere, dopo di avere tanti insuccessi, perché in realtà quel successo non era costruito, non era radicato, non era stratificato e quindi si è arrivato a un punto di apice diciamo tipo da gratta e vinci, cioè hai vinto un biglietto, non sei diventato ricco, hai vinto dei soldi, non so come dire, come ragionamento. Quindi questo è un consiglio che tu diciamo non stai dando, però lo stai raccontando, che secondo me è molto bello da trasmettere e quindi ti volevo diciamo portare su un ultimo macro argomento perché comunque sai queste chiacchierate ne vorremmo stare qua un'ora, però diciamo io dico sempre che se loro hanno 40 minuti e ce li dedicano io già sono felice, ti volevo portare sul tutto quello che è invece il processo che tu segui con un'azienda, cioè mi farebbe piacere che tu ci raccontassi un po' quando si diventa direttore creativo di un'azienda che qua se vuoi prendere un esempio o parlarne in generale per me va bene nello stesso modo per dire di cosa ti occupi, come si arriva al prodotto, alla selezione magari dei designer con i quali collaborare sì per conoscenza o comunque per affinità tutti i ragionamenti che ci sono dietro il posizionamento del brand fino ad arrivare alla parte finale che ne abbiamo parlato prima è molto spinosa ovvero il prezzo e il tipo di distribuzione mi dicevi e finisco la mia parte di intervento così ti passo tra virgolette a te la parola che comunque tu approcci tante realtà nuove quindi dove quello da costruire è da costruire non è da modificare quindi immagino che questo pure ti dia tanta più possibilità di applicare quelli che sono i tuoi paradigmi sì diciamo che ogni direzione artistica parte sempre da un'analisi approfondita di quello che sta succedendo attualmente nel mondo sia con competitors eventualmente legati a quell'azienda a quel materiale a quel processo a quel prodotto che produce e sia anche a quello proprio che succede in generale se non si fa quest'analisi non si riesce mai a indirizzare l'azienda del cliente all'obiettivo finale e diciamo che quest'analisi permette anche di conoscersi perché è fondamentale anche il rapporto tra il creativo diciamo il direttore artistico e quello che è l'azienda il cliente insomma e aiuta a capire qual è l'obiettivo perché l'obiettivo deve essere comune cioè il protagonista in questo caso come dico sempre non è il progettista ma è il brand per cui lavori perciò anche far emergere il mio nome o il nome dello studio anche no cioè nel senso che comunque io non vendo uno stile io vendo un metodo di progetto io vendo un processo che dico sempre processo ma comunque che parte da un'analisi capire chi si vuole essere e da lì partire generare dei brief per il progettista cioè io oppure comunque altri progettisti che devono far parte della squadra perché poi alla fine ogni progetto si crea una squadra è un lavoro corale non si è mai da soli assolutamente ognuno ha una sua parte ben definita anche perché fare direttore artistico tu comunque devi a un certo punto chiamare il designer il progettista ma c'è poi anche tutta la parte quando il progetto diventa prodotto in questo caso chiamare il fotografo il fotografo d'atto chiamare il grafico fare un progetto grafico che si adatta sempre alla visione iniziale perciò dico la parte iniziale di analisi e di dove si vuole andare è fondamentale perché poi dà le direttive a tutta la squadra e poi da lì dal fare le fotografie la comunicazione tutta la parte lì cosa dove eccetera costruire ovviamente anche il prezzo del prodotto cioè ovviamente moltiplicatori contro moltiplicatori lo so che te lo chiedo in maniera spudorata però molte persone non lo sanno proprio ci puoi dare un ordine di grandezza diciamo di come funziona un moltiplicatore di cosa diciamo chiaramente all'interno bisogna sempre considerare che all'interno ci sono tutti questi costi che si sommano certo perché comunque c'è sempre ovviamente il designer prende una porcentuale di royalty ovviamente anche una fee iniziale di progetto all'epoca si davano dei bei fee ora è un po' come dire si parla sempre di rimborso spese che è una cosa però bisogna sempre pretenderlo perché lavorare gratis anche no perché se si parla di prodotto ma anche direzione artistica ci metti 3-4 anni affinché tu vedi il prodotto sul mercato ma anche i risultati di una direzione artistica ci devi comunque un investimento di 3-4 anni di tanto tempo di tanto lavoro certo certo ma anche sui progetti di case o di comunque di interior ci metti tanto come tempo perché ovviamente lì ci sono poi tempi costruttivi brani eccetera in ogni caso c'è la percentuale del progettista che vabbè fortunatamente ultimamente si è un po' alzato sul prodotto industriale 5% prima era sempre il 3% probabilmente è diventato il 5% ma dopodiché comunque tu devi aggiungere c'è sempre un moltiplicatore che tiene conto che queste 5-4-6-7 dipende dalle aziende quello che applica che contano ovviamente tutta la parte di marketing marketing significa fotografia siti internet cataloghi che una volta si facevano cartacee ora le fiere le mostre insomma è il famoso budget del marketing di solito i miei colleghi quando si parla di marketing si sentono male cioè marketing è una parola che ha usato male marketing è una parolaccia no purtroppo cioè è parte del processo è parte del processo e non è gratis bisogna dire no perché comunque fa parte di quel famoso moltiplicatore che l'azienda applica sul costo finale il costo finale all'istina poi ovviamente dipende dal tipo di distribuzione che hai sai le monomarca sai un e-commerce sì tutta una serie di cose da lì poi comunque a come esce poi il prodotto finito finito e tutto il resto dico io cioè nel senso chiaramente l'esempio che se un'azienda vende direttamente online applica l'intero moltiplicatore che poi magari online scopra il 10% faccio un esempio e quindi è una cosa se chiaramente lo deve dare a un negozio che a sua volta avrà delle spese dei costi dovrà applicare una scondistica maggiore perché poi il negozio dovrà marginare a sua volta è un processo tra le rette sano e semplice dove a volte le persone pensano che dietro quel numero 5, 6, 7 ci sia la voglia di arricchirsi in realtà è una serie di costi che vengono coperti così perché altrimenti potrebbero pure dire mettiamo prima tutti i costi e poi moltiplico per 2 tanto alla fine sempre lo stesso numero esce se io distribuissi il costo del marketing su tutti i prodotti alla fine il numero potrebbe fare meno spavento però il concetto è quello che tutta la filiera deve essere poi giustamente soddisfatta dalla vendita dell'oggetto singolo finale e quando mi dicevi che il moltiplicatore varia chiaramente se io vendo superfici o vendo poltrone cambia completamente perché gli approcci di dimensioni di potenziali vendite di fatturati cambia completamente questo diciamo sono cose che io le forse sono cose note però ripeterle per chi ascolta che magari ci ascolteranno pure qualche avvocato che magari fa tutt'altro nella vita perché questa cosa spesso è uno stigma della moda ti dico non è questa maglietta costa 6 euro la vendono a 600 allora i moltiplicatori però di base è uno stigma che si porta perché uno non sa magari quanto c'è dietro prima di fare quel prodotto e quanti costi ci sono all'interno la pubblicità advertising incide tantissimo le programmazioni annuali delle pubblicità le stesse fiere come ragionamento no no assolutamente però tu mi chiedevi delle novità del salone certo sono super curioso andiamo avanti allora perché abbiamo aggiunto una nuova materia che si la carta perché ancora mi mancava con la carta come proprio riferito alle carte da parate abbiamo trovato insomma interessante sperimentare la stratificazione con un'altra parola che tu utilizzavo perché noi veniamo da una città stratificata per eccellenza cioè io cerco di stratificare ogni progetto con la carta stratifiche alla grande e presenteremo due carte da parati nuove per Fabscart che è un'azienda molto molto bella di milanese prettamente milanese che fa carte da parate fatte a mano perciò è un progetto molto interessante perché comunque richiede proprio la manualità anche loro come azienda di produzione e lavoreremo su questo concetto di un giardino come dire contemporaneo perciò è più decorativo infatti poi mi dirai come lo definisci il minimalismo sempre materico diciamo che che il lavoro che io sto facendo per loro ma che sto riportando anche ad altri progetti che sto facendo è proprio come dire lasciarli un po' indefiniti i progetti sembrerà paradossale sul prodotto industriale però come dire lasciare all'interlocutore finale a chi compra la possibilità di finire il progetto secondo la sua come dire interpretazione e questa cosa del non finito oppure comunque renderlo come dire imperfetto questo è un concetto su cui si sto lavorando tantissimo perché io trovo che a parte l'imperfezione è una cosa meravigliosa perché siamo tutti imperfetti e dobbiamo vivere anche nell'imperfezione perché se veniamo nella perfezione siamo fregati perciò l'imperfetto mi piace come concetto mi piace anche il fatto di dare qualcosa che lascia libera interpretazione all'utente perciò non spiegare sempre tutto e queste carte da parati daranno questo immaginario giardino contemporaneo che è molto legato come dire a un giardino fatto di muffe ti lascio questa grande e poi un'altra novità ce ne sono diverse un'altra novità che mi rende orgogliosa e invece il metallo che è un'altra cosa che comunque mi mancava al 100% metallo e lo farò con un'azienda insomma italiana molto importante e questo non so se posso dire il nome va bene va bene lasciamo un po' disespansi poi ad Avila appena esce facciamo magari facciamo una videochiamata così la aggiungiamo in coda al podcast successivamente è lì praticamente no la sfida è lì poi diremo al brand no e comunque di lavorare sulle finiture sempre materiche perciò dare un'umanità al tavolo in questo caso sono tavoli sulla tattilità e anche sulla parte visiva del colore cioè anche introdurre un colore che è un po' un soft pop io lo chiamo cioè comunque un colore soft che si abbina il verde con il rosa con il rosso cioè di non avere paura dell'utilizzo dei colori ma sempre anche questi sussurrati in questo radical whisper sempre sussurrati ma mai urlati che stanno bene tra di loro grazie mille di questa chiosa che è 5 minuti fantastici ti ringrazio tantissimo di avermi ospitato di essere stato qui a Debrina che ci ha dato una mano ad organizzare tutto e nulla chiudiamo qui questo episodio di Design Addicted è stato con noi Maria Laura Rossiello Irvine e noi ci sentiamo la prossima settimana per la puntata di Natale grazie grazie mille a te ciao 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 ciao